Anch'io sto esaurendo la mia energia, quindi se riesci a rimetterti in sesto potresti avere una piccola possibilità di sconfiggermi. Ti sto offrendo su un piatto d'argento una seconda occasione. Vorrei divertirmi un altro po', questa è stata la partita più entusiasmante che abbia mai giocato. Doppio caio! Fostami la potenza di cui parlarvi al cento per cento! In questo caso non mi resta che mostrarti la mia vera potenza e vedere come te la saprai cavare! Non vedo l'ora di affrontarti, e quando verrà il momento farò il momento che tu sparisca pensato, sta dicendo che un'ora non ha combattuto al massimo delle sue possibilità. No, non credo! Com'è possibile che quel mostro diventi ancora più forte? Io penso che stia bleppato! Non credo! Non credo! Non c'è mento! Nonura! Non c'è mento! Non c'è kinda sound Ere pollo risotto! AHHHHH! 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 Ha, bene! Ci sei contenta di conoscere il vero Cell! Devo ammettere che è molto più forte di quante... ...quante... AHHHHH! 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 Allora tu... ...regustavi già il sapore della vittà, è vero? Non sono così ingenuo come credo! AHHHHH! 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 Danno's mi posai di chi. AHHHHH! 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 Un po' ed eccoci un'organizzazione. Da te mi saria aspettato qualcosa di più emozionante!